compagni di scuola benvenuti a questa nuova puntata della scuola tv dedicata alla cyber sicurezza tutte le risposte alle vostre domande più frequenti è una nuova puntata di questo format vitamina digital promosso da google e realizzato da scuola.net proprio per aiutarvi attraverso le informazioni e le risposte degli esperti a rendere più sicura la vostra esperienza di navigazione quindi su questo tema non potevamo che prendere in considerazione un ospite che è in prima linea per difendere la nostra cyber sicurezza e quella del nostro paese quindi do il benvenuto e ringrazio roberto baldoni ben trovati a tutti ben trovati a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo ecco stare con gli studenti non è un'esperienza nuova per te perché sei un professore universitario ma adesso rivesti il ruolo di direttore generale per dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale quindi questa struttura costituita da poco e che ha gli scopi di cui parlavamo quindi oggi insieme a te ecco soddisferemo tutte le curiosità che vengono dai ragazzi su questo tema che comunque un tema che adesso non riguarda più solo gli addetti ai lavori riguarda proprio tutti noi insomma utenti della rete sì assolutamente la struttura che è stata creata ha proprio questo come scopo quello di cercare per esempio di creare consapevolezza tra gli altri all'interno della società rispetto sia ai rischi ma anche alle opportunità che il digitale in particolare la cyber security possono offrire quindi ecco mi sembra di capire sia attività pratiche ecco proprio sulle nostre infrastrutture ma anche un'attività di comunicazione di quella che chiamiamo awareness assolutamente c'è l'awareness per noi è molto importante che verrà fatta in modalità settoriale piuttosto che orientata al grande pubblico su questo a breve per esempio ci sarà una campagna di pubblicità progresso proprio sulla consapevolezza nell'utilizzo diciamo dei device che ci mettono in comunicazione tra tutti e dall'altra parte invece anche indirizzare la cosiddetta forza lavoro e ovviamente viviamo in un momento di grande cambiamento anzi dal mio punto di vista già siamo entrati in un nuovo mondo ed è chiaro che anche la forza lavoro e quindi i ragazzi che si stanno orientando verso nuove professioni per noi è importante che capiscano quelli che sono i punti di riferimento del futuro in maniera tale che preparino il loro futuro per poter poi essere integrati e fare le loro esperienze al meglio di quello che possono e quindi nel mondo del digitale a proposito di questo ecco tra poco ci collegheremo con Marcello Ascani che è un creator che si occupa proprio di questi temi con il suo format imbucato lui si imbuca nelle aziende e racconta quello che accade nelle aziende però poi ecco nel corso della puntata avremo altri esperti come Martina Colasante che è Public Policy and Government Affairs Manager in Google quindi ci rappresenterà quelle che sono le grandi aziende quindi i grandi giganti del digitale che comunque ci aiutano in questo mondo appunto online e Federico Cavallo che è responsabile delle relazioni esterne di altro consumo quindi associazioni consumatori quindi quelli che si occupano poi di uno dei sistemi di sicurezza più importanti che siamo noi cioè oltre alle infrastrutture e alla tecnologia ci siamo noi come sistema di sicurezza ecco riguardando diciamo tornando al mondo degli studenti e quali sono le attività di ANC che si rivolgono maggiormente a questo target una l'hai accennata prima quella appunto della richiesta anche di nuova forza lavoro sì assolutamente questo per noi è importante far capire il fatto che la trasformazione digitale cambierà il nostro diciamo il nostro assetto lavorativo nel futuro nel senso che noi avremo molte professioni che verranno in qualche modo ridimensionate e ne avremo nuove che verranno create quando parlo di nuove professioni che verranno create soprattutto nell'ambito del digitale che può andare dalla creazione di contenuti alla gestione di infrastruttura ma anche al diciamo allo sviluppo di normative di regolamentazioni all'interno sia della trasformazione digitale sia che nel settore specifico della cyber security quindi è chiaro che c'è tutti ci sono tutti i nuovi settori nel digitale che stanno nascendo e per poter entrare all'interno di questo mondo ripeto ad ogni livello noi dobbiamo preparare da prima a partire dalla scuola e poi all'interno dell'università dei percorsi che possano permettere agli studenti di poter poi incanalarsi ed avere un futuro diciamo una carriera importante spero nel nostro paese per quanto riguarda lavorare nella trasformazione digitale nel digitale in particolare. Ecco poi più avanti anche con Marcello parleremo proprio anche di nello specifico proprio dei percorsi quindi però anche per aiutare i ragazzi capire magari che scuole superiori fare che percorsi universitari o se ci sono delle alternative all'università quali opportunità ci sono anche per gli studenti che stanno studiando in questo momento perché so che ne avete tante tante a disposizione però ecco vorrei approfittare della tua competenza anche per dei consigli pratici o comunque per fare un po' al punto la situazione perché abbiamo chiesto ai ragazzi appunto abbiamo annunciato la tua vita di un'uso 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 e abbiamo chiesto se ci fosse qua il prof Baldoni cosa gli chiedereste? Allora molte domande sempre sono arrivate sui furti di dati online ecco ci sono dei ragazzi che sono curiosi di sapere che cosa ci fanno i dati con i ladri con le nostre informazioni e quali tipi di usi sono più diffusi? I dati sono il petrolio di questo millennio. Voi avete visto come delle grandi organizzazioni, industrie, modello Google, Facebook ed altri, hanno praticamente il loro patrimonio all'interno dei dati che loro riescono a gestire. Quindi il furto di dati è come se rubassero dei piccoli tesori. All'interno di questi piccoli tesori quello che fanno soprattutto è rivenderli a delle organizzazioni che possono essere interessate per esempio a profilarci da un punto di vista di ciò che facciamo sulla rete perché quello che noi facciamo sulla rete è un valore. Sembra questa cosa non chiara o comunque non direttamente connessa, invece è un valore perché permette di capire quali sono le nostre inclinazioni, permette di fare pubblicità mirate, permette di fare campagne rispetto a dei prodotti mirati e questo ovviamente è un problema di cui noi dobbiamo tener conto. Però la cosa importante è far capire a ciascuno di noi che il proprio patrimonio informativo, le sue scelte, le sue decisioni, quello che fa sulla rete di fatto possono essere tradotte in obiettivi che possono essere da una parte commerciali a propria insaputa e già questa è una pratica che non è corretta. Dall'altra possono avere anche scopi non consoni perché possono servire per esempio in alcuni casi a capire le vulnerabilità di qualche persona ma non è poterla attaccare attraverso i diversi social e quindi attaccare attraverso i propri bias cognitivi. Ecco questo è l'altro punto importante, quindi può essere usata sia su un discorso di profilazione settoriale eccetera eccetera ma anche direttamente contro le singole persone. Quindi è estremamente importante iniziare a diventare gelosi dei propri dati e capire ciò che può essere rilasciato su una rete locale e quello che invece deve essere mantenuto all'interno del proprio patrimonio dei dati di cui siamo più gelosi in qualche modo. Ed è questo il lavoro che l'agenzia fa a livello nazionale, capire quali sono le informazioni più importanti per il nostro paese, su queste agire a livelli di sicurezza molto elevati e poi man mano se ci sono delle informazioni a livello turistico, le foto del Colosseo piuttosto che mostrare le nostre bellezze, quelle hanno ovviamente un livello di sicurezza molto meno forte. Ecco questo è quello che noi facciamo, cercare di gestire questo rischio rispetto alle singole informazioni e quello che in piccolo, piano piano dovremo imparare a fare tutti noi. Ecco hai parlato, hai usato un'espressione che mi è molto piaciuta, dobbiamo imparare ad essere gelosi dei nostri dati e ci hai fatto anche capire che ci sono dei dati che rilasciamo in qualche modo senza esserne consapevoli e altri invece che decidiamo di tenere per noi. Però può capitare che magari dei dati che noi decidiamo di tenere solo per noi, magari il nostro cloud di foto, faccio un esempio, magari possono essere violati da qualcuno per i nostri comportamenti oppure magari per piattaforme che utilizziamo non configurate correttamente e non sicure. Ecco, come proteggere i dati che abbiamo deciso di mantenere solo per noi? Quindi quei dati che abbiamo deciso di rilasciare solo nella nostra dimensione personale e privata? Allora, ovviamente ognuno è libero poi nella propria piattaforma personale di poter mantenere localmente i propri dati e le proprie foto, le proprie informazioni più sensibili. Dopodiché, ovviamente, se si decide di andare in cloud con tutta una serie di altre informazioni, bisogna affidarsi a dei cloud provider che hanno degli standard di sicurezza molto elevati e questo ovviamente aiuta in qualche modo a dare questi dati a qualcuno che li sa gestire. Per esempio, adesso in Europa stiamo discutendo lo standard di certificazione dei servizi cloud. Questo è uno standard che permetterà di gestire i servizi cloud a tre livelli ed è chiaro che i provider di cloud poi si certificheranno per il livello 1, il livello 2 o il livello AIG, diciamo quello più alto. Allora è chiaro che più alto è il livello con cui questi gestori di cloud si andranno a certificare più le nostre informazioni, semplificando, sono al sicuro. Nel senso che le mettiamo in mano a qualcuno che ha dimostrato che è in grado di gestire il rischio cyber secondo delle pratiche che sono quelle allo stato dell'arte. Cioè quindi a breve, quando io sceglierò un servizio cloud, avrò anche associato a quel servizio diciamo un livello di sicurezza. Sì, un livello di sicurezza. Quindi potrò fare una scelta più consapevole. Quello che noi stiamo discutendo adesso a livello europeo con tutte le altre nazioni, io credo che tutta questa discussione terminerà nel giro di qualche mese e poi man mano questa certificazione entrerà nel circolo europeo il che significa che i cloud provider si certificheranno e a quel punto noi saremo in grado di sapere questo cloud provider a che livello è in grado di gestire le nostre informazioni. E ovviamente questo è un parametro importante. Ecco, ti ringrazio davvero perché ci hai dato tantissimi spunti e ti chiedo di ritornare un attimo su quello precedente quando parlai di bias cognitivo a Corcari. Non tutti gli studenti che ci seguono sanno interpretare questa... È molto semplice, no? Voglio dire, avere il possesso delle informazioni di una persona permette di capire i suoi orientamenti, che cosa pensa. Immaginate se io fossi in grado di sapere tutte le tue informazioni. È chiaro che sono in grado anche di capire quelle che possono essere le tue debolezze e quindi sfruttare quelle debolezze per, diciamo, gli scopi che possono essere più diversi. Radicalizzarti, per esempio, rispetto a certi temi dove io noto che c'è una vulnerabilità. Ecco, questi sono poi i bias cognitivi che in qualche modo qualche, diciamo, attaccante potrebbe sfruttare. E questo è il fenomeno che si ha in rete quando si parla delle cosiddette echo chamber che vanno a polarizzare l'informazione. Tu vieni circondato da persone che la pensano come te e a quel punto c'è un'opera di amplificazione che tende a rafforzare le tue certezze, le tue sicurezze perché di fatto non vengono messe a confronto con quelle di altri. Ecco, questo è, diciamo, quello che noi chiamiamo bias cognitivo. È davvero importante sapere queste cose, ecco, perché poi magari uno naviga online, ecco, trova certi contenuti o viene mirato da certi tipi di informazione proprio per questo motivo. Ecco, noi adesso ti lasciamo un attimo riposare, ecco, qua in studio possiamo alternarci, un secondo ti lasciamo bere un sorso d'acqua per dare spazio al nostro prossimo ospite che appunto è Federico Cavallo di Altro Consumo e con lui approfondiremo proprio alcuni aspetti legati alla formazione dei consumatori. Quindi con te ci ritroviamo tra poco e soprattutto quando tornerai ci sarà anche Marcello Ascani per approfondire proprio quegli aspetti sul lavoro. Quindi intanto ti ringraziamo per questo primo step insieme. Grazie a voi e a dopo. Ritroveremo Roberto Baldoni tra poco, però nel frattempo che sta per entrare in studio, un altro ospite che vi abbiamo anticipato, ma prima appunto di dargli il benvenuto andiamo a citare alcuni dei dati della survey, quindi del sondaggio che abbiamo fatto su scuola.net con il quale abbiamo costruito le domande per questa puntata, ma vi abbiamo anche un po' chiesto come vi orientate sul tema della cyber sicurezza. Abbiamo fatto e hanno risposto migliaia questa domanda. Quando navighi o accedi a servizi online, hai paura che vengano rubati i tuoi dati personali? Quindi c'è una psicosi sulla sicurezza dei propri dati? Tantissimo, lo dicono il 10%, si dichiarano terrorizzati. Molto preoccupati, ho sempre il dubbio, sono il 15%. Però poi tendenzialmente la maggior parte è per un grado di preoccupazione medio-basso. Quindi quelli preoccupati o molto preoccupati sono essenzialmente uno su quattro. Tutti gli altri lo sono abbastanza o moderatamente. Ci ha raggiunto adesso qui in studio Federico Cavallo, che è responsabile di relazioni esterne e altro consumo. Benvenuto Federico. Grazie, ciao. Grazie per essere qui con noi. Abbiamo appunto visto che c'è un grado di preoccupazione medio-basso, non è elevatissimo. Però sappiamo che gli utenti possono avere un ruolo fondamentale nella cyber sicurezza. Allora, altro consumo si occupa proprio anche di divulgazione e di informazione. Quali strumenti è necessario mettere loro a disposizione per proteggersi? Beh, innanzitutto sì, hai assolutamente ragione. Noi come utenti, come consumatori del digitale, siamo centrali. Il digitale alla fine è proprio questo. Ci mette fisicamente in mano degli strumenti, dei device, attraverso il quale possiamo fare cose. E quindi il modo con cui facciamo queste cose ha un impatto per noi e per gli altri. In termini positivi, costruzioni e relazioni, tutte le cose che sappiamo, e anche in termini di protezione e di sicurezza. È chiaro che quelli che sono gli strumenti, diciamo, da mettere a disposizione delle persone sono fondamentali. Quindi tutte le nostre applicazioni debbono essere progettate in maniera tale da essere sicure by design. Come si dice, le infrastrutture devono garantire, e ne abbiamo parlato, ne avete parlato con il dottor Baldoni, dei livelli di sicurezza, degli standard di sicurezza. Però c'è anche una parte che possiamo svolgere, ecco, anche noi, con i nostri comportamenti quotidiani. Bisogna allenare questi muscoli per essere pronti alla sfida giorno per giorno. Quindi abbiamo capito che è importante proteggersi con gli strumenti tecnologici giusti, come ad esempio gli antivirus, ma poi alla fine questo probabilmente non basta. Cioè il miglior antivirus in commercio probabilmente siamo noi con i nostri comportamenti. È assolutamente vero. Noi possiamo predisporre delle barriere, delle difese, però non possiamo affidarci totalmente a queste. Gli antivirus sono importanti, ne si trovano in commercio sia a pagamento, ma anche quelli gratuiti danno un'ottima protezione. Però, come dico, non dobbiamo neanche essere un po' ingannati, pensare che poi siamo a posto così. È bene, è importante allenare quelle sensibilità, quei muscoli, diciamo, quelle attenzioni che ci possono permettere, come se fossimo per strada, di individuare un pericolo quando si presenta. Quindi eventualmente di arrestarci o cambiare strada, assumere dei comportamenti a difesa di noi stessi e degli altri. Queste competenze non sono cose complicatissime, non sono cose soltanto da addetti ai lavori, lo possiamo appunto fare tutti noi, ed è anche per questo che un'organizzazione come la nostra, come Altro Consumo, insieme a Google, lavora da tempo sulla formazione delle competenze digitali e proprio recentemente, ne abbiamo già parlato insieme, per esempio abbiamo creato uno strumento, un videogioco che si chiama Space Shelter e che ha proprio questo come obiettivo, cioè quello di andare a allenare tutti noi su alcune piccole accortezze, dalla password all'autenticazione a due fattori, non ti spoilerò le altre, così andiamo tutti a giocare, ma che grazie alle quali giorno per giorno noi possiamo avere un ruolo attivo per la sicurezza nostra e degli altri. Allora noi invitiamo tutti a giocare a questo videogioco, ci ho giocato anch'io, veramente molto bello, molto intrigante, ecco l'apprendimento avviene quasi in automatico, dove lo possono trovare, insomma quelli interessati? Sito di altro consumo, sito di Google, basta scrivere Space Shelter nel motore di ricerca ed è facilissimo da trovare. Ringraziamo Federico Cavallo per essere stato qui con noi, grazie davvero, ecco noi adesso facciamo un cambio scena, quindi ritornerà con noi il professor Roberto Baldoni, si collegherà con noi Marcello Ascani e ti ringraziamo insomma per essere stato qui con noi. Di nuovo, grazie a voi. Ecco, ma noi abbiamo chiesto ai nostri utenti, ai ragazzi che frequentano scuola.net in preparazione a questa puntata, non solo alcune domande per i nostri ospiti appunto, ma ci siamo addentrati sul tema dei comportamenti e quindi abbiamo chiesto, di solito quando apri una pagina web e ti appare la scritta sito non sicuro, che cosa fai? Bene, ci siamo resi conto che il 33% lo abbandona subito e torna indietro, il 51% guarda un po' il sito, quindi guarda un po' se si sente sicuro prosegue, però e quindi diciamo questi sono dei comportamenti buoni, si valuta la situazione o comunque si va a diffidare e quindi nel dubbio non è sbagliato. Però ecco abbiamo una parte che ci fa preoccupare perché l'11% ci dice continuo sempre, il pericolo non è mai reale e questo potrebbe non essere vero, il 5% invece non è mai capitato di entrare in un sito non sicuro. Quindi tendenzialmente quando vedono questa scritta sito non sicuro la maggior parte insomma valuta la situazione e prende una decisione corretta, comunque fa una valutazione del rischio il che è importante. Solo l'11% ignora questo alert. Come vi anticipavo precedentemente siamo di nuovo in studio con Roberto Baldoni che dopo la pausa ritroviamo qui con noi e come avevamo anticipato dovrebbe essere collegato con noi anche Marcello Ascani che è un amatissimo creator. Ciao Marcello, benvenuto! Come va? Bene! Allora, imbucato a scuola.net oggi. Finalmente! Oh, è per noi un onore averti qui. Insomma ti abbiamo anticipato, abbiamo anticipato anche quello che è il grande lavoro che fai tu con i ragazzi di sensibilizzazione anche su quelle che sono le nuove professioni e quindi oggi in questa parte insomma del nostro format parleremo proprio di queste tematiche e se tu sei d'accordo, sempre sei d'accordo, ricomincerai da Baldoni. Assolutamente. Ecco, la rivoluzione digitale ha creato nuove professioni come quella del creator. Dieci anni fa praticamente non esisteva YouTube quindi non potevano nemmeno esistere i creator per queste piattaforme ma anche ha creato la necessità di nuovi esperti magari in infrastrutture, big data, cyber security, anche intelligenza artificiale. Si parlava prima appunto di quelli che sono i possibili percorsi per un ragazzo o una ragazza che volesse intraprendere un cammino in questo settore oppure che volesse proprio lavorare direttamente in ACN. Ecco, cosa dovrebbe studiare o comunque che competenze dovrebbe portare a casa? Allora, è chiaro che il mondo del lavoro si sta completamente trasformando a favore di queste nuove professioni ed è ovvio che non è soltanto una cosa che riguarda i tecnici o gli ingegneri in generale sicuramente è importante aumentare la capacità tecnica quindi la forza lavoro tecnica che noi abbiamo in Italia quindi io invito tutti i ragazzi che hanno delle capacità matematiche a indirizzarsi verso degli studi che sicuramente potranno dargli delle carriere luminose in futuro in particolare all'interno di tutte le tecnologie che tu hai citato poi ovviamente se volessero lavorare in ACN all'interno della difesa del loro paese rispetto a minacce di tutti i tipi criminali, statuali eccetera eccetera è chiaro che poi si dovrebbero specializzare in qualche modo nella sicurezza informatica però detto questo è chiaro che ci sono tante altre professioni che hanno delle derivazioni ormai nella parte digitale penso al settore giuridico penso al settore delle scienze sociali penso ai settori della psicologia penso ai settori delle relazioni internazionali ecco tutto questo ovviamente sta subendo una grande trasformazione e ovviamente i lavori che la trasformazione digitale andrà a perdere diciamo quindi lavori a più basso livello diciamo di come posso dire di digitalizzazione verranno poi recuperati ma verranno recuperati e bisognerà avere delle competenze specifiche all'interno di ciò che si creerà nel futuro la parte di creator come tu hai detto giustamente o la parte anche di influencer era un qualcosa che non esisteva fino a qualche tempo fa quindi noi avremo una creazione di nuovi lavori e bisognerà essere agganciati a questi filoni per poter centrare quindi sicuramente coltivare tutto quello che è diciamo il lavoro anche derivato dalla trasformazione digitale piuttosto le infrastrutture farsi portare diciamo lungo quell'onda e ormai anche a livello universitario esistono tante lauree che possono indirizzare verso questa professione oltre alla parte tecnica di lauree diciamo STEM che quelle normalmente indirizzano verso una professione più di infrastruttura di servizio pratica ma tutte le altre possono essere possono in qualche modo grazie a una sapiente questa interazione con i contenuti digitali poter creare nuove professioni che vedremo via via fiorire cioè quindi mi sembra di capire che sicuramente le lauree dell'area STEM quindi quelle più tecniche e matematiche insomma sono idonee per questo settore insomma quindi l'informatica in tutte le salse però anche tutto quello che è il mondo delle lauree umanistiche con un'opportuna spruzzata di competenze digitali possono essere utili per lavorare in questo settore adesso io parlavo appunto della parte giuridica ma pensiamo all'archivistica all'archivistica digitale questo è un elemento assolutamente fondamentale cioè è chiaro che gli archivi subiranno una trasformazione gli archivi sono particolarmente importanti soprattutto in Italia si pensi all'archivistica museale eccetera eccetera quindi l'archivistica è un elemento fondante diciamo di tutta la nostra pubblica amministrazione è chiaro che subirà un cambiamento importante ed è chiaro che tutte le lauree diciamo per esempio lettere che hanno un andamento verso la parte archivistica anche queste dovranno necessariamente contaminarsi con tutto quello che è il contenuto digitale che viene inserito cioè quindi la notizia è questa le competenze digitali non sono più una cosa solo da nerd ma che tutti tutti devono sviluppare e qui chiamo no non chiamo assolutamente sì devono svilupparle ma ognuno di noi deve sviluppare quelle competenze invece per l'utilizzo giornaliero di queste tecnologie esattamente come noi usciamo da casa e sappiamo che non dobbiamo attraversare col rosso ecco è importante anche capire che se un sito non è sicuro quindi non utilizza il protocollo HTTPS qualche problema ci potrebbe essere e non è vero che non esistono rischi sulla rete perché basta che girate diciamo 5-6 siti non sicuri prima o poi uno di questi siti vi attacca qualcosa dentro il computer e credo che questa è una prova che diciamo ognuno di noi ha fatto all'interno del proprio diciamo usare l'informatica quindi attenzione assolutamente a utilizzare siti non sicuri assolutamente attenzione a non aprire attachment di email che non siano in qualche modo riconducibili a qualcuno dei vostri amici o dei vostri conoscenti attenzione a diciamo a tutto ciò che è interazione sulla rete non desiderata anche all'interno di reti sociali insomma esistono delle norme di comportamento che devono essere usate per usare al meglio la tecnologia con tutta l'informazione che ci porta per poter diciamo migliorare noi stessi avendo opportunità nel campo del lavoro nel campo della socialità pensate cosa poteva essere la pandemia senza l'infrastruttura digitale pensate soltanto a questo infatti ecco è impensabile però giustamente tu prima citavi il fatto di non fidarci ad esempio delle email che arrivano ecco su questo tema so che Marcello che richiamo in causa ha fatto anche dei video ecco sulle truffe di tipo finanziario che arrivano attraverso le email allora Marcello ecco vorrei chiederti come un rappresentante della generazione Z spiegherebbe ai suoi cotani ecco cosa fare quando arrivano email di questo tipo ma allora tutto parte dal fatto che purtroppo tra tutti gli ambiti di internet uno dei più non sicuri è proprio quello finanziario quindi un ragazzo della generazione Z che si approccia alla finanza per la prima volta proprio in questi anni perché avrà 20-19 anni e magari per gli stipendi piccoli soldi arrivano magari si interessa di finanza non ha nessun magari tutore nessuna persona poi nel mondo reale a spiegare le cose quindi si informa online e succede proprio la profilazione dell'utente che dice ok capiscono che quest'utente è interessato agli argomenti finanziari purtroppo tutti quanti poi siti di ogni tipo alcuni sicuri ma altri per niente sicuri magari per qualche motivo hanno la tua mail ti contattano ti arrivano le pubblicità e quindi di punto in bianco ti ritrovi veramente pieno di insidie e quindi se sei interessato al mondo finanziario e hai appena iniziato devi stare attento perché appena inizi ci sono veramente tante trappole una delle più famose è proprio il phishing che non è solo per il mondo finanziario ma spero che chi è della generazione Z essendo un nativo digitale sia un pochino più bravo a riconoscerlo però non mai dire mai ecco allora ti arriva una mail magari per risettare la password di servizio di pagamento in realtà la mail non viene realmente la servizio di pagamento quindi devi sempre controllare bene il mittente e se appunto il mittente non è sicuro devi anche segnalare la mail per phishing ci sono però anche un sacco di altre proposte che non vanno bene per esempio quando viene proposto di fare gli investimenti su dei broker non sicuri o in dei servizi non sicuri quando vengono promossi schemi dove ci rischia in fretta sono cose che quando sei giovane magari ti attirano ti sei appena interessato a questo mondo quindi non hai gli strumenti per capire se è una cosa valida o una cosa non valida ed è un attimo che perdi i tuoi primi soldi ecco io vorrei dare diciamo un dato ecco su quanto i ragazzi diciamo in età universitaria quindi più o meno nell'età di Marcello siano soggetti a truffe online in realtà abbiamo fatto una ricerca proprio un anno fa la metà di questa generazione ha subito delle truffe di tipo finanziario online quindi ecco non tutti sono smart come Marcello quindi ti ringraziamo per questi consigli lo sai di chi è colpa soprattutto dei ragazzi quattro volte di più rispetto alle ragazze ecco siamo un po' un po' troppo imprudenti quando diciamo trattiamo il tema della finanza online questo però mi permette di fare un appello particolare alle ragazze perché noi soffriamo un problema di genere all'interno delle professioni digitali in particolare la parte di infrastruttura quella appunto ingegneristica informatica eccetera eccetera allora è chiaro che noi non possiamo perdere il 50% della forza lavoro perché sarà forza lavoro strategica per il futuro del paese allora dobbiamo trovare tutti i modi e questo sarà ovviamente un tavolo di discussione che noi cercheremo di aprire con il ministero dell'istruzione per far sì che le ragazze entrino sempre di più all'interno di questo mondo ecco questo è un elemento assolutamente importante su questo se posso infatti ti voglio fare una domanda su questo perché molto spesso l'ostacolo per le ragazze parlando di bias cognitivi c'è l'etichetta che la matematica sia una roba per uomini e non lo sia per le ragazze questo è un pregiudizio culturale che ci portiamo avanti e che limita molte ragazze lo abbiamo visto anche nelle ricerche anche Ox Pisa ce lo dice allora quello che so è che insomma voi state lavorando anche per avvicinare i ragazzi che magari non hanno il pallino le ragazze che non hanno il pallino della programmazione che magari non si sentono geni della matematica o della logica ma in realtà queste capacità ce l'hanno e non lo sanno al mondo della cyber sicurezza sì allora ci sono diversi programmi che noi stiamo mettendo su insieme al consorzio interuniversitario nazionale informatica in particolare c'è un'iniziativa che quando ero professore universitario lanciai a livello nazionale che è la cosiddetta cyberchallenge punto it che permette praticamente a ragazzi tra i 16 e i 22 anni di entrare in una competizione della quale poi alla fine vengono fatti giochi a livello europeo organizzati da inisa e permette in genere di avere all'italia una nazionale veramente degna della nazionale di calcio infatti nelle ultime quattro edizioni quella di questa estate no? esatto voglio dire siamo arrivati credo terzi due volte una volta secondi siamo sempre sul podio non siamo mai riusciti ad arrivare primi per ora ma questo mostra assolutamente diciamo la qualità dei nostri studenti rispetto a queste problematiche allora per diciamo avvicinare ancora di più gli studenti soprattutto delle superiori da quest'anno ci saranno le olimpiadi cyber oltre a un programma specifico che verrà fatto poi per le ragazze quindi ecco da questo punto di vista sono diversi gli strumenti che si stanno pensando e che l'agenzia supporterà in tutto e per tutto proprio per poter entrare sempre di più nel mondo scolastico e cercare di in qualche modo far emergere quei talenti che per noi è assolutamente importante o quelle diciamo peculiarità della persona che è assolutamente importante che noi scopriamo in quell'età dai 14 ai 16 anni ecco cerchiamo di capire hai parlato fino a 22 anni giusto? sì praticamente cyber challenge copre dai 16 ai 22 23 anni vediamo se marcello può partecipare se possiamo prendere un campione in questa nazionale marcello ci sei potresti partecipare? assolutamente partecipo volentieri assolutamente credo che adesso sia tempo di iscrizioni le iscrizioni sono aperte se andate sul sito cyber challenge punto it potete iscrivervi e potete partecipare alla selezione per poi entrare nelle classi che sono organizzate da circa 40 università sparse sul territorio nazionale e seguendo dei corsi che dureranno per tre mesi circa poi si arriverà alla vera e propria challenge un'università contro l'altra e ci sarà l'università vincente e i migliori ragazzi verranno presi per i giochi europei quindi è una diciamo è una grande gara entusiasmante secondo me ecco l'agenzia non guarda questa è estremamente importante soltanto ai ragazzi che diciamo formeranno la nazionale o piuttosto quelli che arriveranno in finale a cyber challenge cioè noi veramente guardiamo tutti coloro che si iscrivono cercando di portare quest'onda verso i mestieri della trasformazione digitale lo scorso anno furono 5000 i ragazzi che si sono iscritti io spero veramente che quest'anno toccheremo aumenteremo almeno del 20% le iscrizioni e ripeto per noi è importante il gruppo che si va a formare e la mia idea è di sviluppare iniziative specifiche per quei 5000 più che altro rispetto ai campioni della nazionale perché ai campioni della nazionale anche io non devo insegnare niente voglio dire sono ragazzi che stanno oltre cioè che insegnano loro a noi però ecco io a questo punto visto che Marcello si è reso disponibile allora cominciamo facciamo il colloquio cioè quindi adesso cerchiamo di capire nella tua pratica quotidiana che cosa fai quindi che cosa ti senti di consigliare per proteggere la tua sicurezza online allora innanzitutto che sa lo dicono tutti autenticazione a due fattori questo io lo faccio sempre anche perché da influenzare i miei account social sono fondamentali per lavorare e quindi per non ritrovarmi il mio account di Instagram ogni 3x2 è hackerato ho l'autenticazione dei fattori con il codice in realtà ci sarebbero altri strumenti superiori che non utilizzo quindi sono colpevole però diciamo che per ora questo mi è assolutamente abbastato ed è quello che io consiglio poi io consiglio sempre di leggere il mittente di chi vi invia le mail assolutamente mai cliccare sui link al primo sguardo ma ogni volta che c'è un allegato scaricabile o un link cliccabile ricontrollare sempre appunto il mittente della mail e assicurarsi che sia una cosa addirittura fra i youtuber qualche anno fa c'è stato un problema molti canali youtube sono stati hackerati perché sai che i youtuber collaborano con i brand un hacker fingendosi un brand ha fatto scaricare degli allegati fingendo che fosse una collaborazione con un brand in realtà quello è legato e poi era un virus e tanti canali youtube per un periodo abbastanza lungo di tempo sono stati aggrati hanno perso il loro originale il loro originale proprietario ed era una roba che da uno youtuber non ti aspetti ecco adesso ti faccio ritornare nei panni del prof promosso questo ragazzo si si promosso diciamolo lo vedo bene promette bene quindi mi raccomando marcello allora candidati anche tu per fare parte di questa squadra potresti anche fare il capitano se non altro diciamo uno dei principali divulgatori ecco potresti potresti essere un testimonial marcello io non so se tu utilizzi una vpn allora come sai sono molto popolare ultimamente questo perché fanno tantissimo influencer marketing io sono un influencer ho anche un'agenzia che fa influencer marketing quindi come clienti noi abbiamo addirittura clienti che fanno vpn diciamo che il loro primario utilizzo ed è quello che io faccio delle vpn in realtà per esempio in viaggio io quando ero in Cina lo utilizzavo per bypassare quello che era il grande muro cinese digitale quindi poter utilizzare youtube google tutto il pacchetto di google che è vietato in Cina non si può utilizzare mentre con la vpn lo può utilizzare tranquillamente ci sono anche altri utilizzi che io non ne faccio secondo me in Italia ho un'utilità marginale però sicuramente ha dei vantaggi ecco chiedo anche a Roberto Baldoni servono davvero perché appunto sono molto popolari tra i ragazzi no 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 è chiaro che ti aumentano il livello di sicurezza nello scambio informativo ovviamente bisogna stare molto attenti perché alcune volte vengono scoperte delle vulnerabilità proprio nelle vpn e quindi anche lì ecco per esempio lì consiglio di seguire magari il bollettino dell'Oxirta nazionale che emette le vulnerabilità e quindi anche le patch che devono essere installate per poter gestire la vpn nel modo migliore perché purtroppo ecco questo è anche importante far capire alle persone non è che se tu installi un software a quel punto quel software è sicuro per sempre magari quando l'hai installato ovviamente è una versione sicura ma le vulnerabilità aumentano nel tempo perché dipendono da cattive configurazioni da problematiche che nascono dopo un certo periodo per cui è sempre importante fare patching di quelle e quindi diciamo attivare le patch come uno fa nel telefono gli aggiornamenti perché quegli aggiornamenti in realtà sono per il 99% aggiornamenti di sicurezza perché ovviamente si scoprono delle cose che al momento in cui è stato lanciato il prodotto non erano problematiche ma lo diventano problematiche di sicurezza successivamente quindi assolutamente a partire dai telefonini dai device privati aggiornare sempre e comunque le applicazioni che arrivano da siti diciamo o da produttori trusted quindi su cui noi riponiamo la nostra fiducia e questo ovviamente va fatto anche all'interno dei software specifici come quelli delle VPN è chiaro che per quanto riguarda il software delle VPN già andiamo a un livello di utilizzo diciamo tecnicamente superiore quindi bisogna andare a vedere quelle che sono le vulnerabilità riscontrate all'interno per esempio dei siti specializzati come quello dell'Oxirt che mette in evidenza giorno per giorno quelle che sono le vulnerabilità che vengono ritrovate all'interno di internet e magari dà gli aggiornamenti per poterle superare quindi ecco ragazzi si possono usare possono avere un livello di sicurezza però vanno aggiornate come un po' tutte le cose allora noi ringraziamo Marcello Ascani per essere stato con noi grazie per esserti imbucato e quindi bocca all'uvo per il tuo lavoro e per la tua opera di divulgazione online grazie davvero per essere stato con noi ritroveremo Roberto Baldoni fra poco ma prima avremo come nostra ospite Martina Colasante Public Policy and Government Affairs Manager in Google quindi relazioni istituzionali di Google che è una nostra ospite fissa ormai quindi avete imparato a conoscere ma prima di accoglierla in studio il bello della diretta parliamo appunto delle VPN vi abbiamo chiesto quanto utilizzate queste reti virtuali private e effettivamente è venuto fuori che il 15% di voi le utilizza spesso il 27% le utilizza ma è capitato poche volte mentre il 25% non ha la minima idea di che cosa siano quindi abbiamo fatto chiarezza su questo aspetto che comunque da una parte di voi utilizzato da qualche altra parte è ignorato ma come vi annunciavo ecco è arrivata Martina ben ritrovata qui in scuola.net ciao ciao Daniele è sempre bello essere qui ed è sempre bello per noi averti qui perché ecco ci fai capire che Google oltre ad aiutarci a realizzare questi talk che sono fondamentali comunque per la formazione ci danno degli spunti che non sono sempre immediatamente accessibili ci fa capire che insomma c'è qualcuno che si preoccupa per noi per la nostra cyber sicurezza ecco quali sono le azioni gli strumenti che sono disponibili per noi ad esempio l'altra volta abbiamo scoperto il privacy check oggi che cosa c'è sulla cyber security che cosa ci puoi raccontare guarda cercherò di essere breve perché altrimenti avrei bisogno di più di un'ora per parlare non so forse ancora di più per parlare di tutti gli strumenti di Google ma allora ci vuoi dire qual è la pagina di Google che spiega tutti questi strumenti sì sì ve lo posso dire la pagina di Google è il centro per la sicurezza online che offre una panoramica di tutti questi strumenti sia per la protezione della sicurezza che della privacy però magari adesso vi faccio una breve lista degli strumenti più importanti per i prodotti più utilizzati di Google però una premessa prima la premessa è che miliardi di persone utilizzano ogni giorno i nostri strumenti quindi noi abbiamo la responsabilità di mantenere i dati delle persone che li utilizzano al sicuro e questa per noi è anche una priorità assoluta quindi per quanto riguarda gli strumenti di sicurezza che noi mettiamo in campo Google è difeso da una delle infrastrutture di sicurezza più sicure più affidabili al mondo che blocca automaticamente le minacce che potrebbero arrivare attraverso gli strumenti che noi utilizziamo ogni giorno questa infrastruttura di sicurezza è direttamente integrata dentro questi strumenti quindi per esempio se parliamo del motore di ricerca per dire tutte le ricerche che noi facciamo quindi su Google Search sono crittografate che significa crittografate significa che sono tradotte in un linguaggio illegibile se non per chi ha una chiave di decriptazione che quindi poi è in grado di comprendere questo linguaggio quindi le nostre ricerche sono al sicuro oppure sempre per quanto riguarda il motore di ricerca noi lavoriamo assiduamente per contrastare per esempio gli annunci indesiderati gli annunci indesiderati possono essere molto pericolosi perché possono essere portatori di malware ma anche perché magari possono promuovere dei contenuti per esempio contraffatti dei prodotti per esempio contraffatti oppure possono violare delle polisi le nostre polisi sulla pubblicità oppure anche la legge italiana quindi noi lavoriamo con grande assiduità e impegno per eliminare questi messaggi diciamo questa pubblicità di spam questa pubblicità indesiderata parliamo di miliardi di pubblicità indesiderate ogni anno con una media di 100 annunci rimossi ogni secondo per dare anche qualche altro numero impressionante io oggi li ho riguardati perché ci pensavo e dicevo no dai non è possibile pensando per esempio a Gmail su Gmail noi blocchiamo ogni giorno 100 milioni di tentativi di phishing e 15 miliardi di email di spam di tentativi di spam sempre su Gmail ci sono altri un altro strumento che si chiama programma di sicurezza avanzata che è un programma che non è utile a tutti è utile per gli account più delicati che sono più a rischio quindi per esempio gli account aziendali oppure in campagna elettorale per esempio gli account dei politici oppure dei partiti politici quindi quelli che sono più soggetti quegli account che sono più soggetti a tentativi di frode di attacchi e quindi attraverso questo strumento è possibile per esempio attivare l'autenticazione in due fattori però con il token più tutta un'altra serie di misure di sicurezza per esempio sui download quindi una verifica aggiuntiva uno strato aggiuntivo di verifica sui download oppure se vogliamo parlare di Chrome questo credo ne ho già parlato anche nell'altra puntata ma ripetita Juvent ok se vogliamo parlare di Chrome c'è questo strumento che si chiama navigazione sicura forse non vi dice niente però sicuramente tutti lo conoscete perché si tratta fondamentalmente di quella schermata che appare quando visitiamo un sito non sicuro quindi Google vi avvisa quando un sito non è sicuro la cosa interessante di questo strumento è che ora è uno standard industriale però è stato sviluppato da Google in modalità open source ed è stato messo a disposizione di tutta l'industria perché il nostro obiettivo certo è mantenere sicuri i nostri strumenti e quindi i dati delle persone che li utilizzano però in realtà proprio lavorare per mantenere il web è più sicuro e poi per esempio parlando di cloud la nostra infrastruttura cloud è anche tra le più sicure al mondo noi controlliamo tutto dai data center fino ai cavi quindi i cavi sottomarini che collegano le region cioè quindi ci sono dei sub di Google che controllano i cavi beh diciamo ci sono dei software di Google che controllano i cavi però i cavi stessi sono nostri quindi sono stati hanno incorporato all'interno degli strati di sicurezza delle garanzie di sicurezza che sono le garanzie di strati di sicurezza di Google e poi la rete dei data center del nostro cloud è una rete globale ridondante distribuita per cui se dovesse accadere un guasto un attacco una catastrofe naturale noi possiamo garantire la continuità del servizio senza o con brevi interruzioni magari anche spostando i dati da una region all'altra cioè quindi questo vuol dire ecco io poi parlo da utente ad esempio di Google Photo io ho tutte le mie foto su Google Photo quindi se succede qualcosa c'è una copia di sicurezza delle mie foto esatto sì sì ecco questo già mi rende mi rende più sicuro perché io ho messo tutte le mie foto le mie foto lì oppure se dovesse esserci un guasto ora non voglio entrare nel tecnico anche perché non è il mio lavoro però se dovesse esserci un guasto perché in un data center perché c'è un terremoto magari possono esserci dei momenti di discontinuità però molto brevi perché quelle informazioni lì quelle contenute nel data center che è stato soggetto alla catastrofe naturale al terremoto non sono persi perché quegli stessi dati si trovano anche in uno o più infrastrutture diciamo il problema potrebbe essere in caso di apocalisse mondiale però ecco si è localizzata in un solo continente possiamo sopravvivere poi ad esempio devo dire che dopo l'ultima puntata ad esempio ho utilizzato il privacy check quindi ad esempio ho scoperto che alcune mie password erano state compromesse in qualche data breach e quindi mi consigliava quali password cambiare infatti infatti io adesso ho illustrato soltanto alcuni degli strumenti che Google integra direttamente dentro i nostri prodotti poi c'è quello che possono fare gli utenti per mettere in sicurezza i propri account e esiste uno strumento analogo al privacy check up che è il security check up il controllo per la sicurezza che consente di attivare l'autenticazione in due dei fattori consente di vedere quali device sono collegati ad un determinato account verificare tutti gli ingressi gli accessi o gli utilizzi sospetti verificare anche in questo caso le password che sono salvate nel password manager per capire se ci sono stati data breach oppure anche per verificare se magari abbiamo utilizzato la stessa password in troppi siti io ho 312 password ritondate le devo cambiare esatto una alla volta adesso durante le vacanze di Natale cambierò tutte le mie password esatto in aggiunta però a tutto questo poi concludo cerco di essere breve abbiamo visto tutti gli attacchi cibernetici che ci sono stati nell'ultimo periodo in particolare che hanno colpito anche delle istituzioni importanti questo ci ha segnalato che i malintenzionati del mondo cyber sono diventati particolarmente efficaci anche nel penetrare proprio con gli strumenti che servono invece a tenerci al sicuro e noi siamo molto preoccupati per questo quindi Google si è impegnata quest'estate ad investire 10 miliardi di dollari in 5 anni per ricerca e sviluppo in ambito cyber security per migliorare i nostri prodotti certamente ma anche per fare un lavoro di awareness su questi temi qui quindi diciamo anche nella cornice dell'impegno di Google nel fare sensibilizzazione e formazione in ambito cyber ma anche nell'ambito della privacy in generale dei buoni comportamenti online che nasce il progetto che stiamo anche presentando oggi insieme ad altro consumo che è Space Shelter di cui ha parlato già Federico quindi ecco dovrebbe esserci un cartello poi per indicarci insomma dove trovare ecco Space Shelter quindi prima Federico ci diceva cercate su Google essenzialmente però ecco qualora non vogliate cercare su Google questo è l'indirizzo spacehelter.withgoogle.com quindi vi invitiamo a giocare noi siamo già diventati degli addicted e abbiamo scoperto insomma tutti questi strumenti di cui ci parlava Martina quindi ecco noi invitiamo i ragazzi a giocare e soprattutto ringraziamo Martina Colasante per essere stata qui con noi grazie a voi e tra poco ritornerà con noi in studio il professor Roberto Baldoni per chiudere questo interessantissimo panel abbiamo dato veramente indicazioni a tutti ecco vediamo però quanto i nostri studenti ne sanno ad esempio di quella che era la frode di cui parlavamo prima anche con Marcello Ascani il phishing quindi questo tentativo di rubare i dati personali online appunto attraverso le email o altre fatti specie ebbene per il 49% ecco questo termine non ha idea di che cosa sia il phishing tutti gli altri più o meno rispondono correttamente anche il 37% poi c'è qualcun altro che ci dice che è il tentativo di vendere un prodotto o servizio online oppure è il tentativo di tracciare i siti visitati o le ricerche quella è la cronologia o comunque sono i cookie quindi c'è ancora grossa crisi allora ecco ne approfitto per commentare questi dati appunto con Roberto Baldoni la preparazione ecco sulla cyber sicurezza può essere migliorabile allora ecco per concludere questo panel secondo te sarebbe importante che questi temi diventino una materia obbligatoria da affrontare a scuola insomma che tutti abbiano un set di base di competenze in cyber sicurezza sicuramente noi ci muoveremo in quella direzione come agenzia perché i dati che avete mostrato ovviamente sono un po' inquietanti perché mostrano una grande maggioranza che non ha idea di che cosa sia il phishing questo va fatto sia a livello diciamo scolastico dove probabilmente alcune ore di lezione dovrebbero essere devolute proprio al modo di stare di utilizzare questi social in una modalità ripeto che ci possa permettere di usare le loro infinite potenzialità ma di diminuirne i rischi su questo l'agenzia proporrà brevissimo e comunque sarà continuativo nel tempo poi delle campagne ovviamente perché questo non si limita agli studenti ma va verso le generazioni anche più anziane della popolazione che da una parte gli viene imposto di usare molto spesso il mezzo digitale per poter fare delle operazioni ormai importanti per la nostra vita quotidiana si pensi alla prenotazione dei vaccini o quant'altro ma dall'altra parte possono avere dei problemi nel ricevere magari dei messaggi di phishing o di smishing o di altre cose quindi attraverso sms dove vengono dirottati verso siti specifici che magari in realtà stanno lì per cercare di piazzargli un malware all'interno dei loro dispositivi quindi tutto questo deve passare per una diciamo per un upskilling o reskilling della nostra società e su questo l'agenzia ovviamente giocherà un ruolo importante diciamo non appena arriveremo alla fase esecutiva quindi a partire dal 2022 diciamo contiamo veramente di incidere anche all'interno di questi settori proprio ripeto perché poi la consapevolezza dell'uso della rete è la base per lo sviluppo e la prosperità del nostro paese ecco noi speriamo che questo si avveri anche perché mi devo denunciare anch'io ho subito una frota con gli sms quindi gli smishing è arrivato con gli sms e diceva è un pacco fermo in dogana era durante la pandemia durante il lockdown e quindi aspettavo appunto tante cose quindi gli ho dato questo euro il problema è che ho attivato un abbonamento quindi assolutamente la benvenuta a questa materia ed è stato assolutamente il benvenuto Roberto Baltoni direttore generale dell'agenzia per la cyber sicurezza nazionale quindi ACN questa nuova realtà che proteggerà la cyber sicurezza insomma di tutti noi cittadini e delle nostre infrastrutture e delle nostre aziende grazie per essere stato con noi grazie a voi e mi ha fatto veramente molto piacere questo incontro anche a noi per esserci venuto ho venuto a trovare e con l'occasione salutiamo anche tutti i ragazzi tutti quelli che ci hanno seguito i ragazzi e le ragazze soprattutto perché c'è una grande richiesta in questo ambito anche di professionalità di tipo di genere femminile ecco ragazze anche per voi ci sono tante opportunità quindi un caro saluto a tutti e a tutte soprattutto un invito a formarvi e a seguire insomma negli studi nella formazione tutti i temi legati alla cyber sicurezza perché qui è il nostro futuro grazie a tutti e a presto per la prossima puntata di Vitamina Digital grazie a tutti grazie a tutti